La terza onda ci ha messo di più. C'erano più di 300 miliardi di uccelli nel mondo. Migliaia di specie diverse. Gli uccelli non sanno cosa siano i confini. Non c'è metodo migliore per diffondere il virus. Sopravvivere alla terza onda è stata la nostra maledizione. Sopravvivere alla terza onda.